Il partito deve essere il mezzo, non il fine. Il fine è il bene dei cittadini, italiani ed aquilani. Con queste parole il segretario nazionale del PD, Perluigi Bersani, ha inaugurato la nuova sede del Partito Democratico dell'Aquila, Sorto, in località della Torretta. Una sede significa una casa, significa radici, quindi presenza, quella necessaria per risolvere i tanti problemi che circondano l'Aquila, la sua ricostruzione economica, sociale e territoriale. Se dovessimo governare noi, senza dubbio metteremo una postazione all'interno del governo che si occuperà dell'Aquila e della ricostruzione, detto Bersani. Questo non è stato fatto, bensì sono stati fatti tanti, troppi errori sin dall'inizio, col voler mettere in scena un miracolo che piano piano si è mostrato per ciò che è. Io dico che si è sbagliato dall'inizio, perché invece di impostare, l'abbiamo sempre detto, le prime ore, invece di impostare un ragionamento serio che unisse l'emergenza a solide norme per una ordinata ricostruzione, si è preferito allestire il miracolo, tra virgolette, e poi lasciare molto del percorso nella confusione. Punto fondamentale per affrontare l'emergenza è l'istituzione della zona franca che in questi giorni è stata proposta per Lampedusa. Su quest'ultima iniziativa Bersani è d'accordo, a Lampedusa la zona franca è certo utile per risolvere un serio problema, ma qui è necessaria per far fronte ad una tragedia. La zona franca è una delle cose che si possono fare, adesso vedo che l'hanno messa in pienzziare per Lampedusa, benissimo, però qui è già due anni che mi hanno detto che dovevamo fare questa zona franca, adesso a Lampedusa gli dico non pagate le tasse e qui a novembre forse bisogna pagare le tasse. Io dico zona franca sì, però anche sbloccare un po' di soldi di quelli previsti per la ricostruzione, per mettere dentro qualche elemento di convenienza economica, credi imposta, accordi di programma, per rendere un po' convenienti gli insediamenti, perché se no si rischia l'assurdo che insediare un'attività produttiva, economica, commerciale all'Aquila è più costoso che altrove. Affetto e fiducia sinceri e totali nei confronti del sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente. Cialente, io gli voglio un bene a Cialente che voi non avete idea. Adosso, una questione so che la vive con un'intensità e con un impegno che ha pochi paragoni. Non sono mancati poi commenti sulle questioni nazionali, paura nei confronti della manovra economica, una bomba d'orologeria che scopperà nel 2013-2014. E riguardo alla questione della manovra salva fine investe inserita nella finanziaria, il segretario nazionale del PD ha definito Berlusconi un magliaro che ci prova sempre. Il PD è l'unico partito che porta questo nome, un partito più che per il popolo, per i cittadini, che negli ultimi tempi stanno mostrando una forte partecipazione e mobilitazione. La giusta collaborazione tra il mondo politico e quello dei cittadini è l'unico possibile mezzo per risolvere i problemi sia dell'Aquila sia del resto del paese.